Io mi chiamo Possum Spinacio, sono a Damanhur da 17 anni, sono cittadino di Damanhur e il mio sogno verde per il pianeta è che l'energia che si utilizza per gli esseri umani non sia merce di scambio economico o, peggio ancora, di guerra, ma sia la possibilità di poter scambiare e commerciare in maniera libera e sempre più pulita e futuribile. Grazie.